Il voto del 22 aprile scorso ha aperto la strada alla dodicesima legislatura con un'assemblea rinnovata per il 76%, 16 nuovi consiglieri su 21, rinnovamento che ha caratterizzato maggioranza e minoranza. La riconferma poi dei vari esponenti invece della legislatura precedente ha consentito un confronto tra l'esperienza degli uscenti e l'entusiasmo dei nuovi eletti che ha permesso all'assemblea di operare con maggiore vigore e velocità. Lo ha detto questa mattina nella conferenza stampa di fine anno il presidente dell'assise regionale Salvatore Micone. Il 2018 ha visto questo cambio di legislatura, un cambio di legislatura con dei buoni risultati, i numeri la dicono tutta, insomma c'è stato un aumento di lavoro all'interno di questa assemblea legislativa, abbiamo prodotto diversi atti, proposte di legge, atti di indirizzo importanti, quindi spero e mi auguro che anche il 2019 ci veda insomma lavorare in tal senso. Quindi 26 sedute di consiglio regionale in 7 mesi, 12 le leggi approvate, 37 gli atti di indirizzo, 21 ordini del giorno e 16 mozioni, diversi dei quali assunti all'unanimità o con voti della maggioranza e parti delle minoranze. Determinanti all'indomani dei 55 anni dalla nascita della regione la battaglia per conservare autonomia e identità. Negli ultimi anni si è messa in moto questa riorganizzazione dell'apparato centrale attraverso insomma un'organizzazione al di là dei confini regionali, pluriregionale, però questo dobbiamo comunque, non significa che bisogna gettare la spugna nel difendere i confini territoriali, questo non lo possiamo permettere perché non possiamo tornare indietro di oltre 50 anni. Chi ci ha preceduto ha voluto fortemente l'istituzione della nostra regione e tocca a noi difenderla in maniera forte e lo faremo in questa assemblea. E poi uno sguardo naturalmente al futuro consapevoli che c'è ancora molto da fare. C'è tanto da lavorare, i problemi ci sono, è una crisi che non riguarda il Molise, è una crisi ad ampio raggio, è una crisi forte, ma metteremo in campo sicuramente tutte le azioni. Il Presidente Toma sta lavorando in maniera forte sin dal primo giorno di insediamento per cercare di recuperare il tempo perso, di cercare di riorganizzare su tutti gli atti, le attività utili per creare le condizioni per un 2019 profilo.